Impiegavano giovani vedette per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Vasta operazione antidroga nel quartier Torbella Monaca, la periferia di Roma. 29 le persone arrestate ed altre 4 colpite da divieto di dimora. Dalle indagini è emerso che al vertice dell'organizzazione c'era un 24enne romano. Lo spaccio negli androni e nei cortili di palazzi popolari, anche davanti a bambini che giocavano. Le giovani vedette erano in costante contatto telefonico con gli spacciatori per avvisarli dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. In caso di arresto, l'organizzazione garantiva la tutela legale con una vera e propria indennità per il mantenimento della famiglia del pusher.